Nudi, avvinghiati sotto il portico di via Roma a Padova, davanti all'entrata di un negozio e proprio di fronte alla chiesa dei servi. Lo scatto che sta circolando sulle chat di Whatsapp e pubblicato dal quotidiano locale il mattino di Padova, sta creando non poche polemiche in città. La foto ritrae una coppia, svestita e addormentata dopo una notte bollente, avvenuta in un luogo pubblico. La donna, senza pantaloni e con gli slip calati, abbracciata ad un uomo di cui si intravede la gamba nuda. Vicino a loro un paio di ciabatte e uno scatolone di cartone. L'immagine è stata scattata da un negoziante che all'alba stava aprendo la sua attività lungo la centralissima via Roma, in pieno centro storico e incredulo si è trovata davanti la scena. Non è chiaro se la coppia si sia addormentata sotto il portico dopo una notte di bagordi o se si tratta di due senza tetto che hanno cercato un luogo per consumare un rapporto. Residenti e negozianti dicono di non averli mai visti prima dello scatto. La foto della scena che ha lasciato a dir poco allibiti i cittadini è già nelle mani della polizia locale di Padova che ora sta cercando di identificare i due per cercare di far seguire la loro situazione dai servizi sociali.